Musica Vogliamo parlare? Devo chiederle... Adele prova un po' a... Prova, prova Ecco, prova, prova, siamo qui Buongiorno a voi, parliamo di autunno Ma soprattutto oggi parliamo di pelle Sì, perché l'autunno è una stagione un pochino difficile Sembra che dopo l'estate la nostra pelle ci presenti il conto Ecco allora che alcuni problemi Che sono poi malattie, malattie infiammatorie Che ritornano, parlo di acne, parlo di dermatite seborroica Parlo di rosacea e parlo di psoriasi Ma soprattutto parliamo di tutto questo con una grande esperta Che oggi ci darà dei consigli molto pratici Per recuperare il benessere della nostra pelle Saluto e ridò il benvenuto alla dottoressa delle Sparavigna Dermatologa a Milano e a Salerno E direttore del Derming Buongiorno Buongiorno Allora, l'autunno è una stagione molto calda per i dermatologi Perché la pelle in autunno si ribella Ripresenta il conto Io inizierei dall'acne A cui abbiamo dedicato proprio un piccolo spazio Obiettivo Salute Invitando i nostri ascoltatori a seguire la diretta Facebook Perché abbiamo sottolineato e ripreso i risultati di un filone di ricerche Che dice che oltre ai danni molto importanti sulla salute Il fumo ha una relazione negativa con la nostra pelle In modo particolare sull'acne Malattia che segna l'adolescenza di molti ragazzi Al punto che resta questo ricordo di questa pelle con le lesioni Quasi un tatuaggio emotivo Dottoressa, di che malattia parliamo? E perché non è solo un problema di ragazzi Perché spesso l'acne torna o si presenta In età che non hanno nulla a che fare con l'adolescenza E questo crea ulteriori problemi Le lascio la parola La diagnosi di acne è una diagnosi a umbrello Nel senso che possiamo anche considerare Che invece che esistere una sola acne Esistono diverse forme di acne Perché come spesso accade Le malattie della pelle hanno una genesi multifattoriale Non dipendono solo da un fattore È normale che magari un soggetto sia predisposto a un tipo di acne diverso da un altro soggetto Il fatto che peggiori durante l'autunno È legato anche all'effetto rebound dopo l'estate Che cosa vuol dire? D'estate noi siamo sottoposti all'azione delle radiazioni ultraviolette Che hanno anche un'azione immunosoppressiva E quindi vanno un attimino a lenire tutte le condizioni infiammatorie Quindi i brufoli temporaneamente Io invito i genitori di ragazzi che in questo momento sono un po' alle prese con i primi brufoli A intervenire Mandateci le vostre domande La dottoressa Sparavigna risponde Avrete notato che il vostro ragazzo La vostra ragazza in estate è contenta Perché le lesioni sembrano un po' mascherate Ma proprio con la ripresa della scuola Di nuovo i brufoli ricompaiono A volte peggiorano Peggiorano Perché? Perché mentre d'estate noi abbiamo anche un'azione levigante Se abbiamo l'abitudine di andare al mare L'acqua salata del mare fa da peeling Quindi l'immunosopressione solare Più l'effetto peeling La pelle migliora tantissimo Invece in autunno Noi osserviamo anche un altro tipo di problema Che lo strato corneo si è ispessito Perché quando noi ci difendiamo dal sole Non solo produciamo la melanina Ma ispessiamo anche lo strato corneo Cioè quello che definiamo lo stato delle cellule morte della nostra pelle Facciamo una sorta di scudo Di scudo E quindi questo va a occludere ancora di più la ghiandola sebacea E quindi ad avere un'azione pro-acnigena Dottoressa Allora Adesso ci rivolgiamo ai genitori Che cosa consiglia di fare? Perché I brufoli in un'età così delicata come l'adolescenza Soprattutto se sono Abbastanza presenti È un problema Rappresentano un problema serio Anche a livello psicologico Lei lo sa bene perché il dermatologo in questi casi diventa anche un po' uno psicoterapeuta Mai sottovalutare il problema Perché questi ragazzi giustamente vivono il peggioramento dell'acne come una tragedia Molti si chiudono in casa, non vogliono neanche uscire perché hanno paura di affrontare il mondo esterno Hanno paura che qualcuno dica ma cosa hai fatto? Come mai la tua acne è aumentata? Quindi bisogna Poi ci sono i compagni che prendono in giro Sì Bisogna intervenire nelle primissime fasi Quindi non avere il problema di intervenire anche quando un bambino in età prepuberale comincia ad avere queste lesioni Lesioni che sono brufoli che si concentrano soprattutto sulla fronte iniziale Ecco, non pensiamo, e questo non per andare sempre dai medici Ma non sottovalutiamo il problema Noi spesso siamo abituati a pensare Beh, l'adolescenza, brufoli Ecco, l'acne è una malattia È una malattia, non è una condizione fisiologica Ecco, quindi Quindi come si interviene? Il dermatologo può dare una serie di cure? Prima di tutto può prevenire Ecco Nel senso che se io vedo una manifestazione acneica al suo inizio Ovviamente potrò trattarla anche con delle misure più blande Addirittura a volte soltanto con dei prodotti cosmetici specifici Quindi evitare che la patologia si estrinsechi O comunque fare in modo che seppure si dovesse estrinsecare Lo fa in una maniera Teniamo un po' sotto controllo Ecco, più leggera È medicina preventiva Certo Inutile aspettare, inutile considerarlo un fatto fisiologico Sì, dei ragazzi Tipico dell'età Che poi passerà Perché tante volte non passa E può, e lo sappiamo benissimo Può lasciare anche dei segni deturpanti E soprattutto quel tatuaggio emotivo di cui si parlava prima Quindi è molto molto importante accogliere questo tipo di richieste Dottoressa, andiamo dal dermatologo che è la figura di riferimento Ci sono però degli errori che noi commettiamo Perché non siamo degli esperti Magari consigliamo ai nostri figli anche dei prodotti per la detersione Che sgrassino Siano particolarmente efficaci Oppure delle creme che compriamo in profumeria Al supermercato, in farmacia Non conoscendolo Limitandoci magari o alla pubblicità O a quello che leggiamo in etichetta In modo molto semplice e chiaro Ci vuole aiutare a evitare almeno gli errori Le terapie antiacneiche o i trattamenti antiacneici Soprattutto i detergenti Sono spesso molto aggressivi nei confronti della pelle E addirittura noi conosciamo una forma di acne Che si chiama acne detergicans Quindi un'acne proprio determinata da una detersione troppo aggressiva Quindi volendo far bene Finiamo per peggiorare la situazione Dobbiamo tenere conto di una cosa Che i nostri ragazzi non sono i ragazzi di una volta Cioè voglio dire che non esiste più l'acne di una volta Non c'è più l'acne di una volta E quindi noi sempre più spesso ci troviamo a dover fronteggiare Negli adolescenti un'acne Ma al contempo una pelle sensibile Noi sappiamo che la dermatite atopica Che rende la pelle così disirratata Così sensibile Così facilmente irritabile E sempre in aumento nella popolazione pediatrica Poi questi bambini diventano adolescenti Che avranno anche l'acne E quindi lì bisogna stare veramente molto attenti A non fare terapie aggressive Altrimenti la situazione è peggiora Quindi la detersione è importante Deve essere sempre delicata Ma in che prodotti dobbiamo orientarci? Possiamo utilizzare dei gel Possiamo utilizzare dei latti Tutti rigorosamente direi a risciacquo Quindi utilizzare questi prodotti per la detersione Opportunamente diluiti con acqua tiepida Ecco un altro errore che si tende a fare Usare l'acqua o troppo fredda o troppo calda L'acqua tiepida a temperatura corporea Direi che è la soluzione ideale E quindi diluire il detergente in acqua E risciacquare abbondantemente con acqua tiepida È importante Un'operazione da fare due volte al giorno Mattina e sera Non serve a nulla continuare a lavarsi in continuazione Perché peggiora lo stato di irritazione della pelle Quindi la detersione E molto spesso bisogna anche fare molta attenzione A tutto quello che viene a contatto con la pelle Perché tante volte Una federa di un cuscino non trattata Non cambiata con la giusta frequenza Delle asciugamani non proprio pulite Dei saponi che vengono utilizzati un po' da tutta la famiglia Possono peggiorare il problema Proprio nel senso di andare a peggiorare la parte batterica Anche se, e questo mi rivolgo alle ragazzine Che si truccano, utilizzano dei trucchi Attenzione perché ci sono dei trucchi specifici E le ragazzine possono usarle Magari questo in qualche modo Le aiuta a camuffare le lesioni Però devono essere rispettate alcune regole Dottoressa, è così? Assolutamente Ognuno deve avere la sua trus Ognuno deve avere anche i suoi oggetti Per distribuire il trucco sulla pelle Questi oggetti devono essere pennelli Oppure dischetti, spugnette Ma devono essere sempre molto puliti Quindi la detersione di questi oggetti Che vengono a contatto con la nostra pelle È sempre molto importante Altrimenti possiamo utilizzare le dita Lavandoci, le mani Quindi le dita pulite Ecco questo può essere già un modo Per confinare il problema Però teniamo sempre conto Che quando apriamo una qualsiasi confezione Noi andiamo a mettere in quella confezione dei germi E quindi questo è un aspetto Che comunque va tenuto in grande considerazione Allora intanto ringrazio Vi ringrazio perché voi mi mandate dei messaggi E io sono contenta Perché vuol dire che il servizio è di vostro gradimento E soprattutto cerchiamo così Tutti insieme di vederci chiaro Come trattare i primi brufoletti Degli adolescenti Abbiamo detto la detersione Importante e non troppo aggressiva Ci sono anche delle creme specifiche Sì Che caratteristiche devono avere Soprattutto come applicarle Perché abbiamo la tendenza Dove abbiamo il brufolo Di mettere un po' di crema Con la faccia poire È giusto oppure la crema va distesa Allora dobbiamo distinguere il trattamento urto del brufolo Che pure si può fare Dallo skin care Dal trattamento della pelle in generale Quindi vanno utilizzati i prodotti Vanno utilizzati con regolarità Anche questo è molto importante Nel caso dell'acute acneica Dobbiamo sempre preferire delle emulsioni molto leggere Quindi non troppo grasse Specificamente studiate per l'acute acneica Quindi noi lo leggiamo in etichetta Certo E ci deve essere anche la scritta non comedogeno Ecco ricordatevi questo Ecco questo è molto importante Che il prodotto sia testato in maniera specifica Per non produrre comedoni Che sono i punti neri I punti neri e i punti bianchi E poi bisogna anche fare attenzione Al tipo di prodotti che si utilizzano per il make up Sì Perché anche quello è molto importante Io tendo a consigliare A preferire Prodotti a base di pigmenti minerali Perché Per ovvi motivi Sono delle formulazioni molto spesso Semplicemente in polvere In polvere compatta E questo mi evita tutta una serie di problematiche Quindi sostanze grasse Oppure oli siliconici all'interno Che vanno a infiammare ulteriormente la pelle E occluderla E ogni cosa che occlude E poi Perché sotto la pelle lavora Certo Dottoressa Queste indicazioni sul trucco Possono essere utili anche alle persone Alle donne in modo particolare Che non più adolescenti Si ritrovano a fare i conti con i brufoli Che hanno una geografia differente rispetto a quelle degli adolescenti E segnalano Sono anche una spia Che segnala al medico Alcuni problemi La cui soluzione potrebbe portare A restituire alla persona Una pelle pulita Dottoressa Tipico dell'acne adulta È la comparsa delle lesioni acneiche A livello del mento Sì Quindi A del collo anche Della regione sottomentoniera E poi un'altra cosa Raccontano queste persone In età adulta Che queste lesioni acneiche A differenza di quello che potevano essere una volta Durano molto di tempo E non vanno mai via Non vanno mai via Uno dice Le rughe i brufoli No Tutte e due insieme È troppo E molto spesso Lì c'è sotto Una questione ormonale Quindi va indagata molto bene La situazione ormonale del soggetto E Però abbiamo anche una buona notizia In questo senso Perché noi abbiamo Dei trattamenti locali Che vanno bene Sia per le rughe Che per i brufoli Ah quindi Finalmente Finalmente Si prendono Due piccioni Con una fava Con una fava Dottoressa Prima di parlare di psoriasi E di dermatite seborroica Per darvi Proprio delle indicazioni Soprattutto per evitare gli errori Acne e alimentazione A lungo tempo Si è consigliato Una dieta Tra virgolette Per le persone Che soffrivano di E soffrono di brufoli E di lesioni Di comedoni Che relazione c'è? Ci sono degli alimenti Da suggerire Da consigliare Altri da Limitare? Ci sono anche Molte dicerie Ci sono Le correlazioni Col cioccolato Ad esempio Che abbiamo visto Essere una correlazione Assolutamente Falsa E' anche vero Però che esistono Delle intolleranze alimentari Mascherate da acne E quindi Anche qui Bisogna essere in grado E siamo unici Di fare Di fare Una diagnosi Adeguata Per cui forse Il buonsenso Detta anche Che se io mi accorgo Che un determinato Alimento Mi fa scoppiare Le lesioni acneiche Mi fa rompere Le lesioni acne Anche se la dottoressa Sparavegna Dice che non c'entra Io non lo mangio Io non lo mangio Ecco E questo è Veramente Buonsenso In generale Effettivamente Alcuni alimenti Sono stati correlati Alla Quanto meno All'aggravamento Dell'acne Come per esempio Mi riferisco ad uno studio Che è uscito Un po' di anni fa Che metteva in correlazione L'utilizzo del latte Parzialmente Scremato E L'aggravamento Dell'acne Quindi ma solo di quello Parzialmente Scremato Quindi se a vostra figlia A voi piace il latte Potete usare Quello intero Quello intero Sì Perché evidentemente Questo crea Un attimino Di squilibrio Un'altra cosa Che va limitata Però lì Dobbiamo essere di fronte Ad un corredo Sintomatologico Di un certo tipo Perché quelle persone Che presentano Il sovrappeso Se non addirittura L'obesità Presentano la seborrea Presentano la peluria Quindi un ipertricose Addirittura Un irsutismo E presentano l'acne Allora lì potrebbe Effettivamente Esserci un problema Di intolleranza Ai carboidrati Quindi Una tendenza Alla iperinsulinemia Che sappiamo essere Poi La parte Che Andrà a finire Nella diabete Dell'adulto Nel diabete Della persona Che soffre Di malattia metabolica Allora in quel caso Bisogna intervenire Subito Sulla dieta Perché L'organismo Ci sta dicendo Attenzione Che io non tollero Questo carico Glicemico Però ci deve essere Un quadro Di questi Di questi sintomi Che devono presentarsi Contemporaneamente Sì Dottoressa Andiamo a parlare Di psoriasi L'avevamo anticipato Anche la psoriasi Come succede Per l'acne Anche per la dermatite Seborroica Migliore in estate Per gli effetti Che lei ben Ci ha spiegato Ma in questa stagione Tende a peggiorare Parliamo di psoriasi Anche Nelle forme lievi E quindi Magari Localizzata Sui gomiti Oppure A livello Della nuca Psoriasi Che però In qualche modo Va Portata All'attenzione Del dermatologo E trattata Perché ricordiamo Che la psoriasi L'abbiamo detto Tante volte Può portare Può avere Delle relazioni Con l'artrite Psoriasica E quindi È una malattia A tutti gli effetti Da considerare Nella sua complessità Dottoressa Sparabini Anche qui Io piuttosto Che parlare Della psoriasi In generale Parlerei Delle psoriasi E quindi Ad ogni psoriasi La sua causa Principale E la sua Terapia Più indicata Certo In generale La psoriasi D'estate Migliora Per quello Che dicevamo Prima Quindi L'effetto Immunosoppressore Delle radiazioni Ultraviolette E l'effetto Levigante Dell'acqua Di mare Vogliamo anche Metterci un po' Di stress Quando torniamo Alla Ripresa Certo Quindi ecco Tutto questo Farà Certamente Peggiorare Una forma Di acne Che ci aveva Dato l'illusione Di essere Sparita Però Dobbiamo sempre Considerare Di fronte A chi ci troviamo Le caratteristiche Del paziente Perché per esempio Se è un piccolo Paziente Una cosa Che molto spesso I genitori Non sanno È che magari In quel bambino Esiste Un'infezione Da streptococco Che sta a sostenere Un focus Infiammatorio Che sta sostenendo Questo quadro Quindi individuato Lo streptococco Risolto il problema Risolto il problema Quindi Mentre invece Per esempio Per quello che Riguarda La psoriasi Dell'adulto Anche qui Noi ci possiamo Trovare di fronte Ad un problema Di sindrome Metabolica I dermatologi Più anziani Parlavano Di diabete Della pelle E effettivamente Col tempo Abbiamo visto Che c'è una relazione Esiste Quindi Iperglicemia Iperinsulinemia Problematiche Correlate Metaboliche Possono predisporre Alla psoriasi Aggravare anche Il quadro Anche perché C'è sempre Una predisposizione Genetica Però appunto Avendo parlato Di una malattia Multifattoriale Se noi aggiungiamo Altri fattori Predisponenti Ovviamente Andiamo a peggiorare La situazione Quindi Soprattutto La psoriasi Rientra Tra quelle Patologie Dermatologiche Che noi Chiamiamo Comportamentali E' molto importante Assumere Dei comportamenti Corretti Ecco Li vogliamo ricordare Dottoressa Sparavegna? Certamente Allora La cute Dello psoriasico Deve essere Trattata Adeguatamente Detersa In maniera Delicata Magari Favorendo Anche L'esfoliazione Ma non in maniera Troppo aggressiva Deve essere Sempre Idratata Dobbiamo sempre Ammorbidirla Tutti i giorni Dobbiamo utilizzare Tutti i giorni Quante volte al giorno E come Idratarla Nel modo corretto Perché quando Voi dermatologi Parlate di Idratazione Il concetto Ci arriva Ma Non abbiamo Forse gli strumenti Per capire Come arrivare A una corretta Idratazione Quale prodotto Scegliere Che caratteristiche Deve avere Come applicarlo Quanto prodotto Applicare Distinguiamo Anzitutto Le chiazze Della psoriasi Dalla cute Apparentemente sana Questo è molto importante Perché si tende a pensare Che dobbiamo trattare Le chiazze Sì Nella psoriasi Esiste un fenomeno Che è definito Fenomeno di Koebner Dove Ogni traumatismo Può causare La comparsa Di una nuova chiazza Sì Anche la secchezza cutanea Può agire da trauma Per la pelle E quindi Nelle zone Dove noi Non interveniamo Con una emollienza Adeguata In realtà Stiamo stimolando La comparsa Di nuove chiazze Quindi è una forma Anche di prevenzione L'idratazione Assolutamente Quindi dobbiamo Agire In maniera specifica Con dei farmaci Locali O comunque Con dei prodotti Cheratolitici Sulla zona Dove è presente La chiazza E il vostro dermatologo Vi suggerirà Naturalmente Il prodotto Giusto Non esiste Per il vostro problema Ma a obiettivo salute Andiamo oltre Noi dobbiamo imparare A fare A gestire Brava A gestire A gestire Anche perché Questo serve anche Per il mantenimento Nel momento in cui Noi abbiamo Risolto Una chiazza Se smettiamo Di trattarla Questa chiazza Tornerà subito Ricomparirà Mentre invece Se noi la trattiamo Con una terapia Di mantenimento Magari La ricrudescenza Sarà più allontanata Nel tempo Esatto E quindi Trattiamo tutta La pelle Siamo molto delicati Questo per esempio Anche a livello Del cuoio capelluto Perché Molto spesso Chi soffre di psoriasi Soffre anche Di una forfora Di una descomazione Patologica Quindi detersione Molto delicata Anche del cuoio capelluto E nel caso Del corpo Sempre Tutte le volte Dopo aver fatto La doccia Dopo aver fatto Il bagno Applicare Il nostro Emolliente Ideali Sono i prodotti A base Lei che i prodotti Li testa Perché È direttore Del learning E quindi Valuta proprio L'efficacia Dei prodotti Ci Faccia capire bene Come possiamo orientare Quali possiamo scegliere Per quello che riguarda I prodotti Per l'emollienza Del corpo Possiamo utilizzare O dei fluidi Sì Se la secchezza Non è eccessiva Altrimenti Dobbiamo proprio Utilizzare Dei balsami E sono ormai Si vendono Proprio con questa definizione Fluido Balsamo 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 È un gradino in più Per quello che riguarda L'apporto di sostanze Lipidiche Alla cute E nel caso Della psoriasi È sempre utile Avere degli ingredienti Specifici Anche magari A bassa concentrazione Ma che hanno Un'azione un pochino Preventiva Nei confronti Di questa Desquamazione Eccessiva Che sono Gli ingredienti Cosiddetti Cheratolitici Che possono essere Un acido salicilico A bassa concentrazione Un'urea Sì I nomi neanche Tanto difficili Da ricordare Acido salicilico Urea Per esempio L'urea Di solito In questi prodotti Viene utilizzata Al 10% E quindi Già questo È un buon Percentuale Tra l'altro C'è proprio Ormai Una grande varietà Di prodotti Sul mercato Che hanno Queste caratteristiche Si trovano Solo in farmacia In profumeria O anche Al supermercato Allora Per un'acuta E patologica Dobbiamo rivolgersi Sempre alla farmacia Quindi direi Di andare a cercarli In farmacia Quantità Di crema Perché abbiamo Questo è un dettaglio Tra virgolette Importante Ne utilizziamo Troppa Ne utilizziamo Troppo poca E poi c'è Un modo Corretto Per farla penetrare Basta il massaggio Bisogna Esistere Allora Per quello che riguarda La quantità Diciamo Che possiamo Anche aiutarci Con il cucchiaio Da tavola Se abbiamo Questo Almeno all'inizio Giusto All'inizio Perché Un'idea Di quello Per esempio La quantità In un soggetto Adulto Potrebbero essere Due cucchiai Da tavola Per arto Sì Ecco Io ad esempio Ne metterei molto meno Quindi due cucchiai Ecco Tendiamo sempre A metterne meno Invece Dovremmo abbondare Ma non eccedere Non lasciare Delle zone scoperte Per esempio Molto spesso Il dorso del piede La pianta del piede Non pensiamo Di trattarli E invece Ecco Dovremmo veramente Come il decolleté Il collo Quando ci diamo La crema Alla mattina Rimane tutto qua Ci sono delle aree Cenerentola Sì Ecco Sarebbe interessante Avere delle creme Colorate Applicarle Magari con dei colori Sgargianti E vedere Dove Quante zone Noi lasciamo Scoperte Lì potrebbe Ha dato un buon Suggerimento Si faceva un po' Con il lavaggio Dei denti C'erano delle pastigliette Che Che rinunziavano Esatto Si dovrebbero fare Anche per le creme Noi la buttiamo lì Qualcuno magari Qualcuno magari raccoglie Quest'idea E la sviluppa Dottoressa Ecco E poi Certamente Questo forse Lo abbiamo detto Altre volte Ma conviene Ripeterlo Possiamo testare Subito La qualità Del prodotto Perché Un prodotto Buono Un prodotto Buono Si assorbe Facilmente Non lascia La baba Ecco Allora Non Non rimane Non lascia Questa patina Addirittura Ci sono dei prodotti Che fanno come Una schiumina Sulla superficie cutanea Quella è dovuta Alle sostanze Ai grassi Saponificabili All'interno Del prodotto Quindi Saponificando Vanno ad aggredire La pelle Quindi Se la vostra crema E questo vale Anche naturalmente Per le creme da viso Nutrienti Che utilizziamo Fa la schiuma Non va bene Non va bene Per noi Se lascia un po' Quella specie di Bavetta Chiamo io Ma la dottoressa Riesce a spiegarcela meglio Ecco Anche in questo caso Vuol dire Che non è una crema Di buona qualità Certo O magari non è Allora Quando rimane Troppo residuo Sulla cute Magari non è Adatta per noi Perché potremmo Utilizzare magari Un prodotto più fluido Che la nostra pelle Riesce ad assorbire Più facilmente Su alcuni soggetti Invece un prodotto Troppo fluido Non va bene Dottoressa Noi abbiamo Due minuti due Per parlare di un tema Enorme Su cui torneremo Dermatite seborroica Due consigli Per chi Si confronta Proprio adesso Con questo problema La dermatite seborroica Soprattutto in questa fase Io la tratterei Farmacologicamente Proprio per farla regredire Dopodiché Con i prodotti giusti Possiamo fare Delle adeguate terapie Di mantenimento Quindi risolvo il problema Nell'acuto E poi vado sul mantenimento Ma soprattutto Consultate il vostro dermatologo Quando la vostra pelle Bilancia degli SOS Non improvvisiamoci Dermatologi Medici Non mettiamo Delle creme a caso Perché poi Come si dice spesso Cancelliamo le tracce E poi il dermatologo Non riesce più A ritrovare la strada Ringrazio la dottoressa Sparavigna Per essere stata con noi Ricordo Dermatologo A Milano A Salerno Di Dermig E la invito già Per una prossima puntata In cui parleremo Tutto di creme Come scegliere la crema Quindi specchio Specchio delle mie brame Intitoleremo La nostra puntata Ringrazio voi Che mi avete seguito Oggi è venerdì Quindi noi domani Ci sentiamo in diretta Se volete Mi farebbe molto piacere Obiettivo salute weekend Sempre a mezzogiorno E domenica Sempre a mezzogiorno Vi aspetto Per la Mifalentavola State bene Arrivederci